Canale Youtube di Luigi D'Azio La passione d'amore penso che sia la terza o forse addirittura la quarta lezione comunque dal verso 1141 fino al 1159 ovviamente del quarto libro del De Re Re Un Natura di Lucrezio ci siete allora ragazzi At qu'in amore malà e proprio su meque secondo in venuntur in adverso vero in opi sunt prendere que possisso culorum lumino aperto innumerabili a medius vigilare settante quado qui razione cavere quenne in liciaris oh si fino a fortunato è una moto adotto e questi mali si trovano in un amore reale particolarmente fortunato benissimo non eravamo arrivati qua questi mali si trovano in un amore reale particolarmente fortunato in adverso vero ad quino opi sunt ma in un amore infelice e stentato sunt innumerabilia sono innumerevoli sono innumerabili sono innumerabili i mali che puoi cogliere che puoi vedere insomma che puoi osservare ad occhi chiusi sono innumerabili i mali che puoi cogliere che puoi osservare ad occhi chiusi iniziamo ad analizzare questo ma abbiamo tradotto vero con un ma vero quindi l'abbiamo tradotto stavolta come congiunzione avversativa è vero può avere anche altre funzioni ma qui è avversativa infatti abbiamo detto un amore fortunato si trovano già un amore fortunato eccetera particolarmente fortunato secondo summeque secondo et summe secondo si trovano già dei mali figuriamoci in un amore infelice stentato ma quindi in adverso ad que in opi sottinteso sempre amore quindi sono sempre questi stati il luogo figurato in più ablattivo in adverso amore ad que in opi amore ecco in adverso trabbiantato infelice quindi l'amore sfortunato l'adverso mentre in opi di per sé come ben sapete in più ops vorrebbe dire senza risorse quindi indigente diciamo qui riferito all'amore l'abbiamo tradotto come stentato senza mezzi come dice anche senza mezzi senza risorse insomma letteralmente la traduzione letterale sarebbe appunto senza mezzi senza i due aggettivi rappresentano una coppia oppositiva rispetto ovviamente ai due precedenti che erano proprio e secondo sunt innumerabilia mala sunt innumerabilia siamo nominativo neutro plurale i mali sono innumerevoli malia soggetto sottinteso sunt innumerabilia predicato nominale copula più parte nominale predicato nominale attenzione che innumerabilia è lontano da sunt probabilmente è posto in una posizione di particolare rilievo proprio per sottolineare il fatto che di mali ce ne sono tanti soprattutto poi quando l'amore non è un amore felice poi abbiamo un'anastrofe perché prendere que va tradotto va invertito insomma bisogna mettere prima il que e poi il prendere il que infatti regge una relativa questa relativa è a congiuntivo quindi una relativa impropria con valore consecutivo come se fossero tanto innumerevoli tanto non c'è però sottinteso tanto che tu puoi ecco abbiamo tradotto tanto da poter ecco abbiamo tradotto così il congiuntivo presente del verbo possum potes potu iposse possis alla seconda persona singolare non traduciamolo quindi al congiuntivo traduciamolo tranquillamente all'indicativo perché abbiamo detto che è una relativa impropria con valore consecutivo tanto che tu puoi prendere prendere in latino vuol dire cogliere ecco è più forte del prendere in italiano tanto che tu puoi coglierli puoi afferrarli letteralmente lumine operto oculorum con la luce chiusa degli occhi sarebbe letteralmente beh insomma con la luce chiusa degli occhi l'abbiamo tradotto ad occhi chiusi però letteralmente sarebbe lumine operto una specie di ablativo strumentale o lumine operto potrebbe essere addirittura ablativo assoluto perché operto è anche un partecipio e oculorum è un complemento di specificazione forse si è più un ablativo assoluto effettivamente ok possis ha un valore di soggetto generico tanto che tu puoi si può ecco si poteva anche tradurre così tanto che si può si possono cogliere eccetera ad occhi chiusi ut melius vigilare esitante qua do qui reazione caver equene in liciaris così è meglio vigilare prima nella maniera che ho spiegato ed evitare di essere imbrigliati e evitare cari ragazzi evitare di essere vabbè adesso non mi viene l'espressione o meglio mi veniva ma era un po' triviale evitare di essere presi all'accio imbrigliati ecco imbrigliati presi all'accio invici aris letteralmente vuol dire presi all'accio imbrigliati non ho tradotto così stavolta abbiamo tradotto l'ut con così anche questa è una consecutiva quindi così che insomma come se ci fosse sottinteso un'unita ecco un sic così che è meglio vigilare ecco perché abbiamo messo l'indicativo perché è una consecutiva quindi abbiamo tradotto il sit che è congiuntivo presente l'abbiamo tradotto invece all'indicativo così è meglio vigilare prima sia melius sia ante sono degli avverbi è meglio sit melius è meglio così è meglio vigilare prima bene melius bene melius optime cioè questo è il comparativo dell'avverbio è meglio vigilare è meglio quindi vigilare è una sorta di infinito nominale cioè un infinito soggetto questa volta infinito svolge funzione di soggetto vigilare prima è meglio vigilare insieme con ante e sit insieme con melius nella maniera che ho spiegato qua do qui razione nel modo in cui nel modo che ho suggerito maniera modo e l'abbiamo tradotto razione abbiamo tradotto razione con maniera modo eccetera nel modo che ho spiegato e questo qua è un relativo diciamo attratto dall'ablativo attratto dall'ablativo razione nella maniera che invece ho tradotto come se fosse un accusativo in realtà qua tenete presente che è ablativo che io ho spiegato che io ho insegnato ci si riferisce qua a quanto ha detto prima insomma nei versi che non sono neanche riportati qua in questo brano sono versi precedenti sempre della fine comunque del quarto libro del Dele Runnatura docui è evidentemente il perfetto indicativo da doccia o doces docui docere della seconda ed evitare et cavere cave o caves cavere insomma quel verbo che sicuramente conoscete della seconda altro infinito qua evitare di essere invigliati questo cavere quindi regge una completiva regge una completiva ne in liciares evitare di quindi quindi in liciaris è un congiuntivo essere imbrigliati in liciaris quindi in licio in licias in liciare in liciare no secondo me questo è un congiuntivo presente in liciaris deve essere un congiuntivo presente infatti questo verbo deve essere della terza in verbo in licio o in io meglio è un verbo in io in licere è un verbo in io quindi questo è un congiuntivo presente passivo seconda persona singolare evitare sempre che tu sempre questo soggetto indeterminato evitare che tu sia imbrigliato letteralmente che tu sia preso nei lacci infatti il verbo in licio è collegato al sostantivo lax lacis vuol dire laccio evitare di essere preso nei lacci imbrigliato congiuntivo presente passivo seconda persona singolare la completiva l'abbiamo detto quindi possiamo passare alla frase successiva se non avete niente da chiedere infatti è meno difficile evitare di esporsi ai colpi d'amore infatti è meno difficile non è così difficile letteralmente evitare di essere esposti di esporsi ai colpi di amore che non uscire dalle stesse reti una volta preso che non uscire dalle stesse reti una volta catturato e sciogliere i saldi lacci di venere e sciogliere e sciogliere i saldi nodi di venere abbiamo tradotto lacci così sempre per mantenere quell'immagine di prima e sciogliere infatti è meno difficile evitare di esporsi ai colpi di amore che non uscire dalle stesse reti una volta catturato e sciogliere i saldi lacci di venere infatti nam ecco non è difficile è sciogliere i saldi lacci di venere non ita difficile est abbiamo tradotto è meno difficile letteralmente sarebbe non è così difficile non è ita difficile difficile è come melius anche melius prima poteva essere neutro però melius neutro difficile neutro sì perché sono nomi del predicato nominale quindi sarebbero neutro aggettivo al caso neutro scusate caso nominativo genere neutro infatti è meno difficile non è ita difficile est vitare vitare è un altro di questi infiniti nominali infiniti sostantivati soggetti diciamo così vito vita svitare vitato un vitare di esporsi e colpi un'altra completiva questa è la completiva retta da vitare di esporsi ai colpi di amore letteralmente di essere esposti di essere gettati scagliati letteralmente però gettare scagliare non andava molto bene iaccio infatti è un altro verbo in io e vuol dire gettare scagliare sempre congiuntivo presente prima persona plurale in plagas amoris qua c'è anche qui un'inversione tutta bisogna un po' ricostruire tutto l'ordine di questa completiva ovviamente all'inizio della completiva c'è il ne ci siamo? ok poi possiamo pure lasciare il verbo alla fine questo sta benissimo però tenete presente che in regge plagas ovviamente non regge amoris perché in regge l'accusativo plagas plaga plage nelle ferite nelle piaghe letteralmente però abbiamo tradotto esporsi ai colpi dell'amore amor amoris amoris è genitivo di specificazione quam è sempre sottinteso è meno difficile evitare che uscire quam exire diciamo che i due termini di paragone sono questi infiniti quindi quam e exire sta a indicare il secondo termine di paragone quam è il secondo termine di paragone quindi quam introduce una comparazione che uscire liberarsi eccetera infatti exire è l'infinito da exeo exis exib exitum exire dalle stesse reti ecco il prefisso ex regge l'ablativo ex reti bus ipsis dalle stesse reti captum una volta catturato ecco una volta catturato uscire una volta catturato una volta preso captum infatti è un participio congiunto riferito appunto a questo poveraccio innamorato che viene irretito ecco c'è anche l'italiano irretire che vuol dire appunto essere preso nella rete per rompere sciogliere quindi è un composto di rumpo rumpere della terza una specie di intensivo di rumpo rompere ancora di più insomma quindi indica proprio sforzo violento di spezzare questi nodi questi lacci sciogliere spezzare i saldi lacci i saldi nodi tenaci nodi validos nodos è complemento oggetto quindi di per rumpere e veneris è complemento di specificazione et amen implicitus quoque possis inquepeditus effugere infestum nisitute tibovius obstes et pretermittas animi vizia omnia primum ecque corporis sunt eiusque prepetis acvis prepetis acvis allora e tuttavia anche se abbiamo detto il retito ingabbiato eccetera e tuttavia anche se ingabbiato e avvinghiato implicitus ingabbiato e avvinghiato potresti evitare l'impaccio se non potresti evitare l'impaccio se non ti chiudi da solo la strada se non ti chiudi da solo tu ti ti bi è una letterazione se non ti chiudi da solo la strada e non passi sopra i difetti dell'animo anzitutto e non e non passi sopra i difetti dell'animo anzitutto o quelli che sono i difetti del corpo o quelli che sono i difetti del corpo di colei che ami e desideri o quelli che sono i difetti del corpo di colei che ami e vuoi e desideri e tuttavia ci siamo anzitutto quelli che sono i difetti del corpo di colei che ami e desideri e tuttavia et tamen le due congiunzioni implicitus è un participio congiunto con un valore concessivo anche se ingabbiato pur essendo ingabbiato infatti implicitus è il participio perfetto da implico implico quindi implicitus implico anche se ingabbiato et impeditus questa volta però il verbo impeditus c'è insomma è sempre il participio impeditus è staccato si dice la figura retorica è tmesi come se fosse spezzato in due cioè il prefisso si stacca come se ritornasse è una semplice preposizione però è da leggere insieme è da tradurre insieme impeditus vediamo appunto avvinghiato impigliato eccetera participio congiunto con un soggetto di seconda persona sottinteso anche se tu sei tu latmesi è quando si spezia una parola praticamente si divide una parola una parola che è composta che ne so per esempio un verbo da un prefisso più il resto del verbo si spezza e questo prefisso ritorna separato dalla forma verbale ecco è il caso appunto di impeditus che abbiamo detto vuol dire appunto avvinghiato impigliato eccetera impeditus letteralmente lo sapete etimologicamente vuol dire senza possibilità di camminare impeditus pes pedis senza piede letteralmente sarebbe cioè senza la libertà di camminare potresti evitare abbiamo tradotto quindi possis con potresti infatti possis è ovviamente un congiuntivo regge e fuggere che abbiamo detto evitare e dell'apodosi di un periodo ipotetico della possibilità quindi in questo caso ovviamente essendo l'apodosi lo traduciamo al condizionale periodo ipotetico della possibilità quindi potresti tu potresti evitare sempre questo soggetto indeterminato sempre questo tu generico questo innamorato generico qui sembra rivolgersi Lucrezio tu potresti evitare infestum infestum l'abbiamo tradotto l'impaccio il pericolo infatti infestum è un aggettivo neutro sostantivato quindi infestus infastus in più fastus negazione di fastus qualcosa di non favorevole sfavorevole letteralmente sarebbe proprio come dire fas fastus era una cosa che avveniva nei giorni appunto di festa quindi qualcosa di non buono abbiamo detto pericolo impaccio ed è un accusativo dell'aggettivo neutro sostantivato potresti evitare che cosa l'infestum nisi ecco nisi stavamo dicendo che era la protasi invece di quel periodo ipotetico della possibilità se tu stesso non se non sappiamo infatti che nisi vuol dire se non sine vuol dire senza mentre nisi vuol dire se non se non ti chiudi da solo ecco avrete notato sicuramente diciamo così la forza espressiva del verso di Lucrezio e soprattutto dell'espressione tu te tibi quindi queste alliterazioni sembra quasi che Lucrezio qui voglia esprimere proprio tentativo dell'uomo dell'innamorato di liberarsi inutilmente da questi lacci d'amore se non ti chiudi da solo la strada se non ti ostacoli da solo se tu il soggetto tu a nominativo la seconda persona singolare non solo è espresso stavolta ma addirittura è rafforzato infatti tu te è il rafforzativo del nominativo del pronome personale tu tui tibi te te quindi tu te è rafforza tu se tu non ostacoli te stesso se tu non danneggi te stesso infatti il verbo obsto regge il dativo tibi se noi non so in italiano diciamo ostacolare chiudere eccetera transitivi questo invece è un verbo intransitivo ovviamente è alla seconda persona singolare del congiuntivo presente da obsto obstis obstiti obstitum obstare della prima coniugazione obvium ah vedete qui doppia alliterazione perché non c'è solo l'alliterazione in ti tutte tibi ma c'è anche l'alliterazione obvius obstes anche questo rafforza ulteriormente l'idea del chiudersi dell'opporsi eccetera perché obvius invece è infatti vuol dire contro 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 te stesso insomma se tu non ti chiudi da solo noi abbiamo tradotto da solo la strada abbiamo tradotto la strada anche se la strada non c'è tradotto in modo un po' più libero non si riesce a tradurre letteralmente questa espressione così carica abbiamo detto anche di alliterazione quindi che proprio vuol rendere quasi l'impossibilità di quest'uomo innamorato di liberarsi et pretermittas è sempre sottinteso se tu non passi pretermittas infatti è un altro congiuntivo presente da pretermitto della terza coniugazione questo è un composto di mito mitis misi misum mitere pretermitto e se tu non passi sopra abbiamo detto proprio passi sopra abbiamo tradotto come separati il verbo e il prefisso se tu non passi sopra tutti omnia vizia animi anche qua omnia vizia è retto da preter preter più accusativo se tu non passi sopra al di là di tutti quanti di tutti i vizi dell'anima se tu non passi sopra i difetti dell'animo quindi animi è un complemento di specificazione genitivo singolare primum anzitutto abbiamo tradotto primum per prima cosa anzitutto etque corpori sunt eius ovviamente vedete che c'è un apostopo dove c'è corpori sa indicare che manca una lettera che è la lettera s e quelli che sono i difetti del corpo corporis quindi complemento di specificazione genitivo etque sunt i difetti del corpo sempre sottinteso que sunt vizia corporis que è un pronome relativo che regge questa frase relativa al nominativo neutro plurale vizia corporis dico lei eius vuol dire dico lei di quella che tu prepetis che tu ami e che desideri ami brami e desideri praticamente sono una specie di indiadi sono due sinonimi prepetis ac vis vis lo conosciamo benissimo la seconda persona singolare di volo vis voluivelle mentre prepetis è la seconda persona singolare di prepeto ovviamente quam è complemento oggetto pronome relativo all'accusativo femminile singolare non faciuntomines perunque cupidine ceci etribunt equenonsunt scommo da avere produciamo questi due versi infatti gli uomini per lo più accecati dalla passione infatti gli uomini per lo più accecati dalla passione faciunt fanno ciò infatti gli uomini accecati dalla passione fanno ciò e attribuiscono loro pregi che in realtà non hanno e attribuiscono loro pregi che in realtà non hanno sarebbe sufficiente dice Lucrezio ridimensionare quelli che sono i pregi della donna per non lasciarsi trasportare dalla passione amorosa guardare le cose in un modo molto più razionale ragionevole cogliere anche quelli che sono i difetti della donna per non essere preso nei lacci infatti nam omines gli uomini per lo più plerunque avverbio accecati dalla passione ceci quindi cechi cechi accecati cechi per la passione cupidine è evidentemente un ablativo di causa ablativo di causa facciunt fanno ciò questo facciunt regge un hoc sottinteso fanno questo perché non ha il complemento oggetto facciunt ha il soggetto omines poi c'è ceci che è diciamo predicativo del soggetto riferito al soggetto ma non ha il complemento oggetto complemento oggetto lo aggiungiamo noi fanno questo et tribunt e attribuiscono loro attribuiscono a loro is ikecoc al dativo femminile plurale attribuiscono a quelle donne alle donne no scusate dativo di possesso et tribunt quindi alle donne è proprio sottinteso attribuiscono loro anche loro alle donne eccetera è sottinteso e attribuiscono alle donne e a que non sunt is le cose che non sono a loro le cose che loro non hanno cioè che le donne non hanno quindi is è dativo sicuramente ma dativo presente in questa relativa dativo di possesso le cose che non sono a loro cioè quei pregi meglio che in realtà loro non hanno commoda commoda che non sunt e attribuiscono loro e a commoda quindi il nominativo attribuiscono scusate attribuiscono es attribuiscono e a commoda no no è accusativo non è nominativo attribuiscono quei pregi che loro non hanno il que eventualmente è un nominativo neutro infatti nel dativo di possesso come ben sapete chi possiede viene reso in dativo is mentre la cosa posseduta è in nominativo que vere veramente in realtà questo è l'avverbio multimo dissigitur pravas turpisco evidemus essendelicis summoco in onore vigere summoco in onore vigere iniziamo a tradurre questa prima frase infatti noi vediamo in molti modi malvagie e sgraziate cioè donne sottinteso malvagie e sgraziate infatti noi vediamo in molti modi donne malvagie e sgraziate che sono considerate graziose e trattate con il massimo degli onori anche se suona la campanella finiamo di tradurre malvagie e sgraziate che sono considerate graziose e trattate col massimo degli onori infatti dunque sarebbe igitur però l'abbiamo tradotto infatti stavolta è una congiunzione igitur infatti noi vediamo che sono considerate graziose e trattate col massimo degli onori infatti noi vediamo in molti modi donne malvagie e sgraziate che sono considerate graziose e trattate col massimo degli onori infatti noi vediamo videmus è la prima persona plurale presente indicativo questo verbo della seconda video pravas turpisque ovviamente turpisque è al posto di turpes quindi donne malvagie pravas disoneste et turpis spregevoli sgraziate bruttes però qualcosa di più di brutte questo turpes sempre accusativi femminili plurali sottinteso feminas sono aggettivi aggettivi appunto o sostantivati o se volete con feminas sottinteso indelicis s indelicis cioè essere nelle delizie nel senso essere oggetto di tenero amore qua dice essere considerate graziose letteralmente essere nelle delizie insomma dobbiamo tradurre un po' liberamente stavolta qua noi vediamo che cosa vediamo queste donne che sono pravas turpisque s scusate però pravas turpisque soggetto di un infinitivo a questo punto vediamo che queste donne sono pravas turpisque sono gli accusativi ma accusativi soggetto dell'infinitiva et vigere sempre sottinteso vediamo queste donne vigere vigere essere in vigore essere piene di considerazione in onore essere in summo onore addirittura essere trattate quindi col massimo degli onori notate come abbiamo dovuto tradurre comunque in modo un po' libero queste due espressioni di questi in più ablativi e a vicenda gli amanti si deridono e si esortano a placare venere e a vicenda gli amanti oppure gli uni gli altri no reciprocamente gli uni gli altri gli amanti si deridono e si esortano a placare venere perché sono afflitti da una donna brutta con amore afflittento poiché sono afflitti da una donna brutta e spesso i miseri non vedono i loro mali più grossi e spesso i miseri non vedono i loro mali più grossi e a vicenda vicendevolmente reciprocamente gli uni gli altri letteralmente ali alios in ridente si deridono gli uni deridono gli altri ali nominativo alios accusativo in ridente è infatti in rideo terza persona plurale è presente indicativo della seconda coniugazione e si esortano su adent ut placent venerem a placare venere a placare l'amore si esortano a placare venere cioè a placare l'amore è chiaro quindi che venere qua insomma sta a indicare l'amore si esortano a in rident ut quindi questa è una completiva come quelle rette d'ammonio e ortor anche in rideo può reggere una completiva volitiva si chiama si esortano a placare placoplacas placavi placatum placare placente quindi il congiuntivo presente alla terza persona plurale veneremo in complemento oggetto si esortano suadent suadent regge la completiva suadeo alla terza persona plurale presente indicativo quoniam regge la causale questa volta la causa generalmente quod qui è quoniam causale più indicativo questa volta però siccome si esprime un punto di vista soggettivo è stato usato il congiuntivo ad flictentur infatti ad flictentur è il congiuntivo presente di un verbo della terza ad flictentur sono afflitti perché sono afflitti dall'amore fedo da un amore orribile da un amore si intende per una donna orribile è un amore orribile letteralmente però quindi amore fedo è un complemento di causa efficiente amore fedo è un complemento di causa efficiente nexua respicunt è spesso sepe i miseri soggetto non vedono sua mala respicunt non vedono proprio respicunt è come una sorta di rivedere è un composto respicio con spicio ecc ognuno tutti significano tutti vedere e i miseri non vedono i loro mali massima più grossi quindi sua mala massima complemento oggetto più attributo i loro mali maggiori enormi i loro mali d'amore massima enormi superativo sempre accusativo neutro plurale altri video didattici su a tuttascuola punto it un no 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 non no 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 Grazie a tutti.